Allora, buon compleanno per il vostro profilo del commissario Ricciardi, è un anno che ci frequentiamo senza conoscerci, vi ho scoperto praticamente su web, fate un lavoro incredibile con una passione, una dedizione, una creatività straordinaria, quindi complimenti ancora, questo primo anno segna il rapporto della nostra amicizia, anche ripeto senza conoscerci e spero che molto presto alla fine di questa avventura riusciremo a brindare insieme. Ciao a tutti gli amici della pagina del commissario Ricciardi, tanti auguri alla pagina e tanti auguri al commissario Ricciardi da una bambinella barbuta e in quarantena come tutti del resto. Ciao amici, volevo augurare buon compleanno al fan club del commissario Ricciardi, oggi compie un anno, compiamo un anno perché anche io faccio parte del fan, ormai sono un lettore assiduo di Maurizio già da tempo, in tempi non sospetti, ho iniziato a leggerlo e che dire, mi fa piacere essere qui con voi, festeggiarlo insieme e intanto vi aspettiamo, vi aspettiamo per vedere insieme le puntate del commissario Ricciardi che sono bellissime. nell'attesa, io intanto vi faccio un caffettino, non è sorrogato, è il caffè vero, questo me l'ha portato bambinella. Gradite? Ciao, buon compleanno! Ciao, sono Fabrizia Sacchi e volevo fare un grosso in bocca al lupo e sostenere in tutti i modi la pagina che riguarda il commissario Ricciardi e niente perché è stata un'esperienza di lavoro bellissima in cui c'è stata una magica sinergia di produzione, regia, attori e parlo della Clemart e parlo di Alessandro Dalatri che è un regista incredibile con cui vorrò lavorare per il resto della mia vita e il grandissimo Lino Guanciale che è un commissario Ricciardi veramente speciale, proprio attore di grande elevatura, grande eleganza come tra l'altro mio marito Antonio Milo che sarebbe Raffaele Maione, noi siamo la famiglia Maione, io sono Lucia Maione e ripeto, non vediamo l'ora di farvi vedere quello che abbiamo fatto, vi mando un bacio enorme, un abbraccio qui dalla quarantena senza trucco come vedete, proprio senza filtri e niente, vediamoci presto, ciao! vi mando un augurio affettuoso qui da via Santa Teresa 107 nella speranza di vedervi quanto prima e ricominciare, un abbraccione a tutti quanti voi dal vostro Camarda, un bacio! Buongiorno, buon pomeriggio, sono Giovanni Allocca, alias Cesarano, su Senza Camarda, eh me ne sono liberato e non se ne poteva più serlo, Camarda e Cesarano, Camarda e Cesarano, il vostro anno solamente sono solo io, il Cesarano, Senza Camarda, volevo fare gli auguri alla pagina ufficiale del Commissario Ricciardi per il primo anno di vita, primo compleanno, augurissimi, grazie per la vostra licenza, per la vostra partecipazione, per le vostre fotografie, grazie, 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 speriamo di vederci presto, senza Camarda però, auguri! allora per prima cosa mi mancate tanto, poi abbiate cura di voi e per ultimo lunga vita al Commissario Ricciardi, da Garzo, Angelo ciao a tutti, state bene? ciao, ciao a tutti, tantissimi auguri da parte di Enrica io sono Maria Vera, volevo fare tantissimi auguri di buon compleanno alla pagina del Commissario Ricciardi quindi tantissimi auguri e salutare e abbracciare tutte le persone che la seguono e chi la creata e chi la gestisce, ciao! happy birthday to il Commissario Ricciardi on Instagram, happy first birthday, this is Martin Gruber I'm playing the role of Manfred on the show I wish you all the best, I wish you health and to everybody out there, let's stick together we're all in this together, we're all in the same boat stay strong and never give up take care auguri, auguri e ancora auguri per questo primo anno della pagina dedicata al Commissario Ricciardi grazie davvero per l'affetto che avete nei nostri confronti, quasi a scatola chiusa ancora non vediamo il risultato del nostro lavoro che spero che sia all'altezza dell'affetto che avete nei nostri confronti un bacio grande da Nunzia Schiano, la vostra Tata Rosa ciao a tutti tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri commissario Ricciardi tanti auguri a voi, auguri sono molto felice di far parte di questa pagina bellissima e spero di festeggiare tantissimi compleanni insieme a voi buon primo compleanno tanti auguri per questo primo compleanno della pagina Instagram sul Commissario Ricciardi io vi ringrazio davvero tanto perché da subito ci avete dimostrato un sacco di affetto che speriamo poi di poter confermare al più presto con la messa in onda finalmente del Commissario Ricciardi che speriamo insomma sia tra ottobre e novembre e nel frattempo festeggiamo, brindiamo a distanza e state bene ah, tanti auguri anche da Lidia Lucani ancora tanti auguri e buona fortuna di questi tempi non è poco